21 anni di successi, di moda, di emozioni. 21 anni di spose sotto le stelle, un successo firmato da Tere Universo e dalla famiglia Magna Pera, ideatrice dell'evento. La passerella naturale della scalinata della chiesa della Madonna della Libera d'Aquino è pronta dunque per ospitare l'edizione 2019. Seduti in platea o comodamente a casa sul divano davanti al televisore sintonizzato su Tele Universo, la sfilata sarà trasmessa venerdì 19 di luglio in diretta dalle 21 e 10. Protagonisti anche quest'anno sono le creazioni sposa, sposo e cerimonia. In passerella gli abiti di Cristina Desain di Pontecorvo e romantica Maison di Cassino. Il look delle modelle sarà curato dalle specialisti del settore, Simone Airstel di Castrocelo ed Elisena Tomassi del Regno di Nefertari di Aquino. La scenografia della imponente scalinata sarà allestita, come ogni anno, dalla casa del confetto di Roccasecca. Ad aprire la serata, venerdì 19 di luglio, con una scenografia dedicata ad una famosa favola di Walt Disney, saranno le allieve del centro di formazione danza Blue Fitness di Ananni, dirette dall'insegnante Anna Rita Pontecorvo. Durante Spose sotto le stelle 2019 ci saranno poi altri momenti dedicati alla musica con la soprano Carla Arcero. Il fotografo Franco Nardi invece immortalerà ogni momento dell'evento. Saranno dispensati consigli utili per i futuri sposi dal Parco del Principe di Cassino ed altri sponsor storici di Spose sotto le stelle, come le concessionarie Ecoliri, Acquafiugi e Telestar. E poi ci sono loro, i presentatori. Accanto ad Aurora Folcarelli quest'anno ci sarà un conduttore, un modello, un volto noto, direi due, vale a dire Daniele Abbaffati. Non mancheranno poi altre sorprese studiate nel dettaglio dall'associazione Tax System e Teleuniverso che da 21 anni danno vita all'evento moda più atteso dell'anno.